Una corona di peteri di rose rosse circonda l'edicola della Ressurrezione. È l'ascea profumata che accompagna il prezioso reliquario con i frammenti della Santa Croce portato in processione. L'antico inno latino risuona nella Basilica del Santo Sepolcro, ancora semideserta, ma oggi in festa per far memoria del ritrovamento della croce grazie a Sant'Elena nel 327. Sola a Gerusalemme questa festa ha conservato nel calendario liturgico una celebrazione propria, nella cappella costruita sulla cisterna di epoca romana ai piedi del Calvario, dove la madre di Costantino ritrovò la croce di Cristo. Un luogo caro ai pellegrini che nei secoli hanno scritto sulle pietre le loro intenzioni di preghiera a portare qui oggi quelle dei tanti che per ora non possono venire e il custode di Terra Santa. Stiamo pregando in modo particolarmente intenso anche per tutti gli ammalati, per quelli che lavorano negli ospedali, per quelli che devono prendere anche decisioni non sempre facili. In Terra Santa la pandemia ha numeri contenuti, moschee, chiese e sinagogue sono ancora chiuse. In Israele è consentito celebrare coi fedeli, ma solo all'aperto. Nella Basilica della Ressurrezione sono rimaste le tre comunità cristiane che la custodiscono. Il portone di legno durante il giorno è chiuso solo dall'interno, per consentire ai frati di uscire per le necessità quotidiane. Bisogna essere sempre attenti ringraziando Dio che questi numeri non sono stati così alti, non hanno proprio toccato noi, però la vigilanza continua e la preghiera pure.